Sono stanchissimo, ho fatto prove libere, qualifiche, last chance e tutto, però è andata bene, sono partito bene alla seconda manche che non so neanche come ho fatto, però poi i primi giro poi i contatti così, però sono gottetto della prima manche, anche della seconda, però poteva andare meglio dai.